Seguirà la prova di posa fotografica, ovvero le nostre miss sfileranno sul palco, qui sulla passerella, 17 metri, sulla piscina, mi piace dirlo perché è davvero fantastica, abbiamo quasi voglia di buttarsi in questa strada fantastica, sfileranno con i gioielli di Lilith Bijoux, noi ringraziamo Elisa Zennaro, una chicca di negozio nel rione Duomo in centro a Chioggia, una piccola boutique ricca di ogni meraviglia, ideata e creata dalla passione e destruosità della titolare Elisa Zennaro, alla ricerca continua di prodotti esclusivi e particolari per il mondo femminile. I suoi gioielli sono interamente made in Italy e questo è davvero un plus per noi di Miss Venice Beach, con la collaborazione anche della regione Veneto andando a promuovere quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, realizzati in acciaio analergico e adatti a tutte le età, questo per rendere l'universo femminile elegante, sbarazzino, estroso ed unico. Grazie Elisa di avere vestito le nostre modelle. Successivamente, anzi assieme, sfileranno anche con le borse di PGH e Cewai un nuovo brand italiano, anche questo made in Italy al 100%, che rappresenta lo stile e la tradizione italiana. Le sapienti mani artigiane che realizzano con cura e cucciano a mano ogni singola borsa e bochette, con materiali ricercati che rendono esclusive le loro borse, ma soprattutto le persone che le indossano. i pellami più pregiati dal pitone al coccodrillo di G.H.Y. è il tuo modo di vivere, lo stile e di essere fashion e speciale di G.H.Y. sei tu. Allora io vi lascio giurati con la sfilata e posa fotografica, con gli accessori di Lily Bijoux e di G.H.Y. le nostre 27 concorrenti. 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 Grazie a tutti. 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 la sfida. a tutti. 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 a tutti.